Quella di oggi è un'esperienza che per alcuni versi è straordinaria, perché in Italia siamo abituati ad approcciarci a questi temi, cioè quello della gestione dei beni culturali e soprattutto del partenariato pubblico privato in forma depressiva, cioè valutandone i limiti e gli ostacoli. Qua oggi ci è stato presentato il primo, forse in Italia, caso concreto di coraggiosa e intelligente utilizzazione degli strumenti normativi vigenti per arrivare ad una gestione seria e produttiva di un bene della città di Roma, sconosciuto a tutti praticamente, perché ancora non è mai stato aperto al pubblico, dalle caratteristiche eccezionali e con procedure ormai arrivate nella fase matura, si apriranno fra poco attraverso il bando questi incontri negoziali che misurerà anche la capacità degli operatori delle aziende di sapere affrontare veramente con spirito di impresa una gestione di natura così rilevante.